Ciao amica! Vuoi vedere come ho realizzato queste unghie? Allora non schippare il video, lascia un like, seguimi per vedere altri contenuti simili. Inizio subito facendo una curata manicure per andare a togliere tutte le cuticole. Dopo aver effettuato appunto il taglio della cuticola passo alla preparazione meccanica dell'unghia. Dopo quella meccanica passo subito a quella chimica. Prima di tutto vado a rimuovere ogni singolo granello di polvere, che è una delle cause principali per il quale abbiamo i sollevamenti. Dopodiché vado ad applicare tutti i preparatori, quindi il primer e la base. Io su me stessa vado ad applicare semplicemente un primer senza acidi perché non ho un'unghia particolarmente grassa. Dopodiché vado ad applicare un piccolo strato, uno strato molto sottile di base, e le vado a massaggiare con movimenti dall'alto verso il basso con un pennellino. Ovviamente dopo aver scelto anche la misura delle mie dual tip, vado a fare lo strato di scivolamento e le vado a riempire. Dopodiché le applico molto delicatamente sull'unghia e do una prima polimerizzata con la micro lampada. Dopo aver effettuato tutti gli allungamenti, essendo una forma molto lunga, ho dato un rinforzo di bombatura, dopodiché sono andata a limare tutta la struttura e questo è il risultato finale. Se volete anche il video della nail art, seguitemi perché tra qualche giorno uscirà anche quello. Spero che le unghie vi siano piaciute e ci vediamo prestissimo ad un prossimo video. Ciao!